Ben ritrovati, l'alta pressione delle Azzorre farà passi importanti sull'Europa e come ci mostra la carta del tempo in questo weekend interesserà nuovamente l'Italia. Ancora qualche refolo fresco legato alla vecchia bassa pressione giungerà sul basso versante adriatico. Le previsioni iniziamo da sabato 8 agosto della variabilità soprattutto al mattino quando delle nubi irregolari interesseranno qua e là il territorio. Non sono previste precipitazioni significative, il rischio per lo più locale sarà presente sul basso Abruzzo. Nella seconda parte di giornata cielo tendente al poco nuvoloso, ventilazione moderata da nord-est, raffiche di forte intensità sulla dorsalia appenninica, soprattutto in media alta quota. Mare generalmente mosso, temperature senza variazioni di rilievo. Ed eccoci a domenica 9 agosto, cielo sereno, poco nuvoloso in tutto l'Abruzzo, qualche nuvola in più si formerà nelle ore pomeridiane sulle zone interne e montuose. Ventilazione al più moderata da nord, mare mosso e temperature in generale aumento. Bene vi ho detto tutto, mi fermo qui, passate un buon weekend, a presto!